Salve, sono Tinnise Quino, vi presento la mia favola di Natale come fiocchi di neve, dalla casa editrice De Comporre nella persona della giornalista Sandra Cervone. Una favola per bambini che piacerà tantissimo anche ai grandi. Il giorno 8 del mese di dicembre, anche se festivo, andarono ugualmente a vendere gli alberi con il papà. Fu un giorno molto più faticoso degli altri, ma riuscirono a vendere tanti alberelli. Ripresero la strada del rientro che già faceva buio. Quella sera, più fredda del solito, tornarono a casa con le mani e i piedini lividi e indolenziti, specialmente Pino che era il più sensibile al freddo. Il papà, con la metamorfosi del sorriso, fece loro una proposta. Se per caso uno di voi avesse ancora un po' di forza, potremmo preparare, proprio questa sera, il nostro albero di Natale. Ce la fate? Il sì in risposta fu un coro a piene voci e il risultato uno splendore. Ringrazio chi ha permesso che questa favola prendesse vita come fiocchi di neve. Chi ha creduto in me, deconvorre edizioni con la tenacia della Presidente, Sandra Cervone. Senza di lei non ce l'avrei fatta. Altri che hanno collaborato con me, Francesco Paone, per la foto della farfalla che è in quarta di copertina. La copertina stessa, disegnata da Ida Maltempo. La versione e-book dell'editore Passerino. Ringrazio l'amico Erasmo Lombardi di Perna, che mi ha affiancata per rielaborare questa nuova edizione. Ed inoltre anche il nostro cameraman, Antonello Bruno. Ringrazio per il patrocinio morale il Circolo Nautico di Caposele Formia. Scrivere favole non è semplice. Può sembrare una maniera meno letterariamente nobile di raccontare dei sentimenti. Invece è proprio la più incisiva. Scrivere favole è come scrivere versi. e aprire lo scrigno del cuore, andare alla ricerca dei sentimenti più intimi e dare loro una veste attraverso dei simboli, attraverso dei personaggi chiave, attraverso a volte degli animali parlanti o una foresta incantata. Scrivere favole mi ha sempre affascinato e non ci sono mai riuscita. E ammiro persone come Tinni, che invece riescono a parlare ai grandi, ai piccoli, con un linguaggio che va bene per tutte le età e che anzi accomuna, unisce, rende vicini i piani per intendersi reciprocamente. Ecco, a Tinni voglio chiedere proprio questo. La favola di Natale, come fiocchi di neve, quali sentimenti ci illustra e attraverso quali personaggi? Ti ringrazio. Colgo l'occasione proprio per dire che nella favola, come fiocchi di neve, voglio parlare di perdono, parlo di perdono, di fratellanza. I due personaggi sono un fratellino e una sorellina, uniti da questo amore e che poi la vita porterà, diciamo, ad allontanarsi tra di loro, ma ciò nonostante anche le distanze, sia quelle fisiche ed altre, permetteranno ugualmente che ci sia tra loro amore. Il perdono. Il perdono è qualcosa che, come diceva anche Sandra, ci accomuna tutti quanti, grandi e piccoli. Chi di noi non si trova in un determinato momento per accadimenti della vita a non avere un po' di collera, un po' di risentimento verso qualcuno? E allora ecco che il perdono è proprio come un dono, lo dice la parola stessa, perdono come per regalo che io faccio all'altro e nel perdonare perdono anche me stesso, è questo molto importante, la fratellanza. Fratellanza che sia, e per mio fratello, mia sorella, come miei familiari, ma che lo sia per tutte le persone del mondo. In questo momento, soprattutto, che stiamo vivendo un disagio dovuto proprio a questo virus che tende ad allontanarci l'uno dall'altro, noi dobbiamo riscoprire sempre di più questa vicinanza che possa essere di cuore a cuore, da anima a anima, il pensarci amorevolmente anche con le distanze, anche nelle lontananze. Inoltre, avere anche fede e speranza, fede negli accadimenti che non sono ancora presenti, che non sono ancora possibili, ma che tuttavia noi con la speranza nel cuore dobbiamo riuscire a sentirne possibili, attuabili, perché questa, secondo me, è la magia della vita, è la magia del vivere, è mantenere alti sogni, sempre sogni realizzabili, che sono quelli che sono intrisi del nostro amore per noi stessi e per l'altro, e affinché questi messaggi non restino in un angolino del singolo individuo, ma diventino universali. E quindi voglio anche cogliere l'occasione per far sì che questa favola di Natale, come fiocchi di neve, possa essere un augurio di Natale per tutti, per grandi e piccoli, di un Natale differente, ma di un Natale che simboleggi proprio la nostra nascita e rinascita, di quel seme della divinità, di quella scintilla amorevole che abbiamo nel cuore, di questa scintilla che sia sempre viva, comunque e nonostante. Cristo, Cristo, tu sei? Cristo, tu sei? Boh